E' uno dei più bei sentieri di collegamento fra collina e mare capace di unire un paesaggio da cartolina, quello del Parco San Bartolo. Ma al pari della strada del mare di Fiorenzuola di Focara, anche la strada Rive del Faro di Castel di Mezzo rappresenta un percorso interrotto e dimenticato. Diventata pubblica nel 2018, la strada è stata prima danneggiata dall'incendio del 2017 al quale sono seguiti frane e smottamenti fino al recente evento alluvionale dello scorso maggio che ha dato il colpo di grazia rendendo la strada del tutto inaccessibile. Strada chiusa ma strada soprattutto enormemente sottovalutata per il suo valore paesaggistico, turistico, di sicurezza ambientale e di fruibilità verso la spiaggia di Castel di Mezzo. Ne sono sicuri i due ex presidenti del Parco, Davide Manente e Stefano Mariani, che invocano quegli stanziamenti finora ignorati dalla politica. La strada Riva del Faro, che è un patrimonio culturale, storico, ambientale e turistico di tutto il San Bartolo, come quella di Ferenzola, è diventata pubblica con delibera e votata all'unanimità nel 2018. Come vedete in questo punto noi abbiamo fatto alcuni interventi sempre nel 2017 per mettere in sicurezza anche la provinciale, però da allora ad oggi è passato l'incendio. Purtroppo non sono previsti stanziamenti economici per far sì che questa strada possa essere fruita in sicurezza, sia dal punto di vista, ripeto, anche della sicurezza per la protezione antincendio, ma anche della fruibilità turistica. È una risorsa importantissima per il nostro territorio, non riusciamo a capire come mai ancora non siano state stanziate le risorse per riaprirla. L'amministrazione comunale, assieme al presidente del quartiere Yolanda Filippini, nella persona del capo di gabinetto del sindaco, Massimiliano Madori e la protezione civile, sono venuti sul posto per fare tutte le verifiche, hanno fatto una loro relazione e hanno inviato alla regione. La regione ha ritenuto che questa strada non sia prioritaria, sbagliando perché sicuramente non conoscono il territorio, in realtà questa è fondamentale, come dicevo sotto ogni punto di vista, di sicurezza turistico-ambientale, fondamentale questa strada e quindi devono essere messe delle risorse alla luce dell'alluvione che si è stata per ripristinarla. Dobbiamo ricordarci che in un territorio che vuole fare del turismo una di quelle che sono le priorità e della tutela ambientale una priorità ancora superiore, questa strada riveste un aspetto fondamentale. Non solo questo, in realtà adesso che si stanno investendo dei soldi anche per le scogliere qui sotto Castellimezzo e per il ripascimento è fondamentale che, unito a quel finanziamento che intorno ai 250 mila euro circa, sia previsto dalla regione, alla luce dell'alluvione che è successo, dei fondi, quindi in regime speciale, per la riapertura di questa strada, che non può rimanere chiusa proprio per una questione di fruibilità del territorio.